Ci troviamo a Frosinone, a due passi da Piazzale dei Matteis, esattamente in via Gabriele Grande 21. Quello che vi proponiamo è l'acquisto di questa palazzina, distribuita su due livelli, oltre il piano terra, dove ci sono due garage e due cantine. L'immobile è costituito da due unità abitative, due appartamenti che sono già completamente indipendenti, un appartamento al primo piano e il secondo appartamento al secondo piano. Con tutta quella che è la corte esterna, questo che state vedendo è il cortile davanti, è un'ifamiliare, quindi ha praticamente la corte e il terreno che gira tutto intorno su tutti e quattro i lati. Saliamo al primo piano, stiamo parlando di 120 metri quadri a piano, quindi 120 metri quadri al piano terra dove ci sono i garage e cantine, altre tanti al primo e altri 120 al secondo. Questa è la scala interna della palazzina. Entriamo nell'appartamento del primo piano. Di fronte all'ingresso abbiamo la cucina, questo è il lato della zona notte. Una cucina abitabile, stile anni fine 70-80. La palazzina è in cemento armato, quindi a livello interno sono possibili eventuali modifiche. Quello che stiamo visitando adesso è una parte del salone, perché c'è un doppio salone, molto luminoso. Quindi abbiamo cucina abitabile, doppio salone. Andiamo verso la zona notte e qui abbiamo delle comode camere da letto, questa è la prima, il bagno che è stato rifatto qualche anno fa con la doccia e la camera matrimoniale. Ogni stanza ha affaccio sul balcone. Questo che state vedendo è il terreno sul retro. È un immobile da rivedere, gli impianti da rivedere. È una palazzina disabitata da diversi anni. Rientriamo di nuovo nell'androne principale. Questo è l'appartamento che abbiamo visitato. E ora saliamo su al secondo piano e qui c'è l'altro appartamento. Potrebbe essere una soluzione adatta a due famiglie. Anche qui entriamo e di fronte all'ingresso c'è la cucina. Sempre una cucina abitabile. Quello è il lato della zona notte. Qui a sinistra abbiamo il doppio salone. Siamo immersi nel verde. C'è un bosco di castagne. Accanto c'è la pace e la tranquillità proprio della campagna. Ciò nonostante siamo a due passi a pochissimi metri proprio da Piazzale dei Martens. Anche qui le stanze affacciano ed escono sui balconi. E anche qui, oltre alla cucina e al doppio salone, abbiamo il bagno. Camera da letto. Camera da letto matrimoniale. 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 Grazie a tutti.